Il 30 novembre scadono i termini di presentazione telematica del modello Redditi 2020 relativo all'anno 2019 per alcune categorie di soggetti, ovvero le persone fisiche, le società di persone e le associazioni. Per le persone giuridiche, invece, la scadenza è fissata all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Vediamo come digitalizzare il processo di gestione della dichiarazione dei Redditi con gli strumenti di Team System Digital Integrati con il tuo gestionale di studio. Prima dell'invio della dichiarazione, in qualità di intermediario, hai l'obbligo di rilasciare al tuo cliente l'impegno singolo o cumulativo a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione. Utilizza Digital Signature per firmare la lettera di impegno. Vediamo come. Dal tuo gestionale di studio, invia l'impegno che dovrai firmare con firma elettronica avanzata. Direttamente dalla tua email, potrai firmare velocemente il documento con una telefonata o un SMS dal tuo smartphone, seguendo il semplice procedimento guidato. Una volta firmato, l'impegno viene sigillato automaticamente anche con la tua firma elettronica qualificata automatica, così da assicurare al documento l'integrità nel tempo. A questo punto, consegna al tuo cliente l'impegno firmato. Puoi farlo velocemente con Digitalbox. Consegnata la lettera di impegno, passiamo ora alla dichiarazione. Prima di consegnare la dichiarazione al tuo cliente, dovrai sottoscrivere telematicamente il modello e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate tramite il tuo gestionale di studio. Bene, a questo punto, entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione, devi consegnare la dichiarazione al tuo cliente. Usa la Digitalbox per farlo in un semplice click. Seleziona i firmatari e pubblica la dichiarazione dal tuo gestionale di studio. Il tuo cliente la riceverà comodamente sul suo PC, tablet o smartphone. E sempre dalla Digitalbox potrà firmarla ovunque ed in qualsiasi momento, con una chiamata o un SMS dal suo cellulare, grazie alla firma elettronica avanzata che hai configurato per lui su Digital Signature. Una volta firmata dal tuo cliente, la dichiarazione viene sigillata automaticamente anche con la tua firma elettronica qualificata automatica, così da garantirgli l'integrità nel tempo. Lo sai che in alcuni casi la dichiarazione deve essere firmata anche da chi rilascia il visto di conformità o da altri soggetti come l'organo di controllo e il revisore legale? Ogni soggetto potrà firmare la dichiarazione direttamente dal suo PC o smartphone, con una chiamata o un SMS, seguendo il procedimento guidato ricevuto via mail. A questo punto, come intermediario, hai l'obbligo di conservare digitalmente la lettera di impegno firmata e una copia della dichiarazione trasmessa. Il tuo cliente, invece, ha l'obbligo di conservare la dichiarazione firmata da lui e dall'intermediario che l'ha trasmessa, l'impegno alla trasmissione e una copia della ricevuta di ricezione. Puoi conservare tutti questi documenti con Digital Archive. Ti basterà configurare il servizio ed i documenti verranno archiviati automaticamente da Team System Digital su Digital Archive. Quali sono i vantaggi di un processo completamente digitale? Ti consente di semplificare i processi e risparmiare costi, tempo e carta. Ti permette di condividere rapidamente documenti molto delicati, come le dichiarazioni, anche con soggetti terzi. Ti assicura maggiore sicurezza dei dati e minore rischi di perdita di documenti importanti. Vuoi avere maggiori informazioni? Consulta gli articoli presenti nel nostro help oppure invia una richiesta al nostro team di supporto.